Buongiorno a tutti, bentornati a Oragione Avvocato dagli schermi di Videonovara. Oggi siamo più rilassati dopo i vapori della scorsa trasmissione, della scorsa settimana, del decreto legislativo che è entrato in vigore nell'aprile del 2015 e che riguardava appunto questa situazione della tenuità del fatto che un giudice può comunque rilevare in sede penale anche per reati puniti fino a 5 anni di reclusione. Ma non ci ripeteremo perché avremo occasione. Però ci riserviamo in una prossima puntata ulteriori approfondimenti. E anche la nostra emittente dedicherà una puntata speciale con Gigi Santoro e ospiti della Procura e del Tribunale invitati appositamente. Oggi invece torniamo alla nostra quiete latina. Dopo una puntata abbastanza pregnante passiamo a qualcosa di un po' più allegro. Torniamo a un argomento che in genere fa un po' così venire sorriso sulla bocca dei nostri ascoltatori. I brocardi. Cosa sono i brocardi? Non sono cose che pungono, no? I cardi. I cardi. No, sono dei proverbi, dei proverbi, cioè delle massime di saggezza giuridica, anzi quasi di definizione giuridica, che vengono naturalmente dal diritto romano, diritto... Tardomedievale, sì. E che esprimono dei concetti giuridici che sono alcuni validi ancora oggi, altri invece erano per esempio tipici. Però i romani col potere della sintesi riuscivano a condensare in poche parole un principio. Pensate a quella definizione di una nota, notissima casa editrice di testi giuridici, multa paucis, molte cose con poche parole. In realtà la nota casa ha pubblicato anche dei tomi notevoli. Con molte parole, però insomma il principio si è rifatta a questo. Ultimamente, vista anche la continua evoluzione o involuzione del nostro diritto, questa casa editrice assieme ad altre si è orientata su un binario più leggero, cioè fascicoli piccoli da pochi euro che però possono essere aggiornati anche quasi, non dico mensilmente, ma quasi. Dovremmo forse suggerirlo anche al nostro legislatore, questo potere di sintesi, pesare le parole. Se volete possiamo anche fare una petizione, ditelo voi, ci scrivete a ragione avvocato chiocciolalibero.it o ci contattate sulla nostra pagina Facebook. Bene, i brocardi di oggi. Allora, due sono miei, sono abbastanza brevi. Uno forse l'avevamo già trattato, ma quanti anni fa, visto che questo ormai è il decimo anno. Per quelli che non sono stati attenti la volta scorsa. Negli anni passati, è il decimo anno di trasmissione. Dunque, il brocardi recita nebis in idem, non due volte sullo stesso argomento, come a dire che se c'è una sentenza, quella ha giudicato su quell'argomento, su quella causa e lì non si può più tornare. In molti film americani viene citato questo principio nebis in idem, perché è citato proprio in latino, è un principio anche del diritto americano. Ma lei ha mai sentito gli inglesi quando recitano, non so, le preghiere in latino? No, è un po'. Hanno una pronuncia latina estremamente inglese. Fantasiosa. Fantasiosa. Vabbè, comunque, in realtà questo principio tollera ovviamente delle eccezioni, perché la sentenza che ha giudicato deve essere passata in giudicato, ossia deve avere raggiunto i tre gradi di giudizio se è stato, per esempio, il primo grado è stato impugnato in appello e poi in cassazione, oppure se il primo grado è rimasto tale deve comunque non essere più aggredibile. Cioè, passata in giudicato vuol dire che proprio non c'è modo di modificarla. In realtà non è proprio così, perché come sempre la vita e in questo caso, devo dire, anche le norme giuridiche debbono prevedere delle eccezioni. Per esempio, nel civile c'è l'istituto della revocazione, che vuol dire rimettere in discussione un caso civilistico già giudicato, quando per esempio si scoprono situazioni nuove, prove, documenti che non si erano potuti produrre e cose di questo genere. Cioè, qualcosa che nel momento della causa non era stato potuto essere fatto vedere al giudice. E altrettanto, e lo sapete benissimo, anche perché i quotidiani se ne occupano, nel caso dei processi penali. Ci sono stati i processi penali con sentenze passate in giudicato, che però poi hanno avuto l'istituto della revisione. Cioè, nel momento in cui, anche lì, si sono portate alla luce nuove possibili prove penali. Credo che nel diritto anglosassone, in particolare quello americano, forse questo principio nei bis in idem è radicale. È radicale. Poi salvo smettite, nel senso che mi sembra che... Sono fatti di cronaca e forse anche romanzi e film ispirati a una situazione in cui una persona era stata assolta e poi, naturalmente, nella trama filmica o anche nella realtà dei fatti, alla fine confessa e dà le prove della propria colpevolezza, ma a quel punto non può più essere giudicata. Anche il procuratore deve decidere, anche quando rinviare a giudizio, per vedere se gli conviene, magari, approfondire con ulteriori prove. Certo, perché altrimenti... Se non ritiene già la prova acquisita. O comunque acquisenda in maniera sufficiente. Bene. E vabbè, e quindi questo nei bis in idem, come sempre, tollera le sue brave eccezioni. L'altro è un po' più lungo, ma sarà altrettanto, insomma... Vado io con uno, ci alterniamo così per un'equa distribuzione... No, allora io... Equinissima. Volevo dire equissima. Allora, il mio in realtà è uno, ma sono due, ma il principio, il concetto è sempre quello. Allora, res inter aglios acta terzio neque nocet neque prodest. Traduzione letterale, ciò che è stato negoziato tra alcuni non nuoce e non giova ad altri. Non è proprio... Magari non giova, magari potrebbe esserci, però vabbè. E l'altro, alterius contractus nemo obbligato. Cioè nessuno è obbligato da un contratto fra terzi. Anche qui più o meno... E lo stesso concetto, ci si rifà all'articolo 1372 del codice civile. Cioè ci si rifà, o meglio, l'articolo 1372 ribadisce questo concetto dei latini. Secondo cui il contratto non produce effetto rispetto a terzi. Salvo nei casi previsti dalla legge. E questo è proprio il principio di relatività del contratto. Questo principio risponde alle esigenze di rispettare la sfera giuridica altrui. La quale non può essere modificata né con atti vantaggiosi né tantomeno con atti svantaggiosi. Da un punto di vista di diritto latino. Prego, se vuole... L'altra è una frase un po' più lunga che leggo lentamente, così tanto provo a tradurla anch'io. L'obbligazione è un vincolo giuridico in forza del quale si può costringere taluno all'adempimento di una prestazione secondo le leggi del nostro Stato. Cioè è una definizione contenuta nelle istituzioni di Giustiniano, questo enorme trattato che Giustiniano aveva contribuito a far redigere, alla quale si fa ricorso ancora oggi perché manca in un certo senso nel nostro codice civile la definizione di rapporto obbligatorio. Cioè la definizione di contratto, che è qualcosa di leggermente diverso anche se accomunato al discorso delle obbligazioni, ma non il discorso dell'obbligazione. Peraltro voglio solo sottolineare che quando si dice che l'obbligazione è un vincolo giuridico in forza del quale si può costringere taluno all'adempimento di una prestazione, beh, la prima cosa che mi viene in mente è che comunque questo vincolo giuridico intanto ha efficacia nei confronti di qualcuno e si può costringere taluno a effettuare una prestazione in quanto la prestazione sia comunque effettuabile, penso ad esempio a una sentenza che condanni, l'abbiamo detto altre volte, tizio a pagare 100.000 euro, ma tizio sia ahimè nulla tenente. Oppure penso a una situazione purtroppo comune, negli ultimi tempi poi comunissima, di un procedimento per sfratto in cui se però il titolo è già esecutivo ma la persona che deve essere sfrattata per motivi anche giustificabili da un punto di vista morale, sociale e quant'altro non abbandona la casa e notevolmente ecco l'obbligazione da sola non fa niente purtroppo, ci vogliono i mezzi, l'ufficiale giudiziario, la forza pubblica e quindi arriviamo a quel concetto di diritto anche come forza che è stato sottolineato soprattutto dai giuristi scandinavi, dai giuristi nordici che più che giuristi erano anche sociologi e cito due nomi, Alf Ross e Karl Olive Crona, a me tanto cari perché hanno scritto uno un bel trattato, l'altro più piccolino, il diritto come fatto, dove però sviscerano proprio questi aspetti ultimi della situazione di un'obbligazione di diritto, cioè dove va a finire poi il diritto. Ma su questo lascerei riflettere i nostri ascoltatori. O eventualmente acquistare i libri, approfondire. E uno non si può perché lo si trova solo in biblioteca, quello di Carlo Olive Crona, Il diritto come fatto, edizione Giuffre 67. In biblioteca lo si trova anche nella mia dispensa magari, l'ho conservato, anche in pdf. Ah, caspita. È un libro raro però. Può interessare. Allora, passiamo a un altro broccardo. Io ho trovato questo, mi sembra abbastanza interessante, Resoluto iure dantis, resolvitur eteius acipientis. Allora, venuto meno il diritto del Dante causa, viene meno anche il diritto della Vente causa. Detto così sembra una cosa, come dire, incomprensibile. Poi in realtà, magari per i nostri ascoltatori, questo broccardo regola il fenomeno dell'acquisto a titolo derivativo. E mi spiego con un esempio, perché è la cosa più semplice. Se io dovessi acquistare qualsiasi cosa, un immobile, da un Dante causa, chi me lo cede, e poi dovesse risultare che questo Dante causa non aveva la disponibilità, cioè la proprietà di questo immobile o di questo oggetto, ebbene, oltre a decadere il diritto del Dante causa di cedere, decade anche il mio diritto che ho acquistato, anche se in buona fede. Certo, da qualcuno che non è. C'è forse però il discorso magari del possesso, vale titolo. Possesso, vale titolo, quello su magari, però insomma, sugli immobili ad esempio, questo può valere, oppure in caso di eredità, se eredito qualcosa da qualcuno che in realtà poi risulta successivamente non proprietario di questa cosa, a questo punto. Ecco, abbiamo ancora il tempo per un ultimo. Sì, per un ultimo broccardo, sì sì. Allora, ne ho trovato un altro. Ius escludendi omnes aglio, diritto di escludere tutti gli altri. Ecco, e non è uno asociale, che ha il diritto di escludere tutti gli altri. Diciamo che è un'espressione latina che indica il carattere di esclusività tipico del diritto di proprietà. Se io esercito, sono proprietario di una cosa, posso negare ad altri di fare, ad esempio, di accampare pretese su questa cosa, per cui con magari un'azione negatoria. Ecco, per cui questi principi, insomma, anche i latini, anzi sono proprio i precursori del nostro diritto. È necessario sintetizzare dei principi giuridici, perché comunque danno una direttiva sulla situazione. E poi, quando ci troviamo in mezzo alle cause e alle situazioni effettive sulla nostra scacchiera del diritto, dove questi principi naturalmente vanno a volte interpretati, vanno anche opposti, perché c'è sempre una situazione in cui noi portiamo avanti una pretesa, un fatto, e poi magari il discorso della prova di questo fatto, ricordiamo quando invitiamo qui la nostra Presidente del Tribunale, dottoressa Di Oreste, la quale ci disse papale papale, ma sì, voi potete affermare tutto quello che volete, ma a noi giudici... La verità giuridica è un altro rispetto. Noi vogliamo le prove, vogliamo i documenti, vogliamo i testimoni, vogliamo un quant'altro. Quindi, insomma, come sempre... E comunque magari i latini avevano questo modo di sintetizzare per poter far percepire meglio... Cioè, le due parole rimangono impresse nella mente, più che magari un lungo trattato, poi ovviamente sappiamo... Multa paucis. Multa paucis. Due parole per salutarvi, ringraziarvi per l'ascolto, buon proseguimento. Alla prossima puntata. Arrivederci, grazie a tutti. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS